ho delle ragazze francesca laura cinzia barbara e marzia una di queste mi ama vediamo quale mi ama non mi ama 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 mi ama sono stato fortunello ah vuoi provare un temerario bene bene prova prendi le carte ok vediamo 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 queste non ti amano vediamo chi ti ama che gusti no no rifacciamolo non è possibile ok ok sei temerario ricordati le ragazze e che c'è la tua preferita mi raccomando la tua preferita come prima mi ama non mi ama mi ama non mi ama mi ama non mi mi ama mi ama non mi ama non mi ama mi ama che fortunello che sono ma trovo il trovato la bella mescolata ok perfetto vediamo 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 queste non ti amano lei ha lasciato hai preso posso tornare a quello ho presto ho